Buongiorno a tutti, come già è stato detto da chi mi ha preceduto, gli errori più frequenti in teleradiologia sono l'omonimia tra i pazienti, l'inserimento erroneo di un nuovo paziente già presente nel RIS, soprattutto i pazienti stranieri o i pazienti alias eccetera eccetera, l'identificazione della cassetta radiografica con dati di un altro paziente e la mancata archiviazione immediata delle immagini. Solo per questo ultimo punto nel 2011 presso questo ospedale abbiamo purtroppo perso quattro coronarografie. Nell'ambito degli errori più frequenti un altro problema forse poco noto è a volte lo scarso rispetto per la privacy nell'ambito della informatizzazione. Io ricordo che dare la propria utenza password a un altro operatore questo fatto costituisce per entrambi gli operatori, cioè sia per chi l'ha data sia per chi la riceve, innanzitutto un reato di tipo volontario, non colposo. Se in conseguenza di questo dovesse avere un danno al paziente ricordatevi che non c'è una copertura assicurativa, perché l'assicurazione non copre i reati volontari. Inoltre questo evento potrebbe essere sanzionabile e con una sanzione severa in caso di provvedimento disciplinare. Quello di cui parlerò saranno gli esempi di altri ospedali italiani e poi parleremo un po' della casistica di questa azienda ospedaliera tenendo conto che siamo in Lombardia e quindi innanzitutto siamo un'azienda che ha cominciato abbastanza presto ad occuparsi di risk manager già dal 2001 e dal 2004 su delibera regionale della regione Lombardia sono stati istituiti due gruppi, il gruppo del rischio clinico e il comitato valutazione sinistri, primo esempio in Italia, che poi è stato più o meno copiato successivamente dalla Toscana e dall'Emilia Romagna. I dati della SIRME, questi sono dati anche piuttosto recenti, riguardano circa un decennio, sui casi denunciati alle compagnie di assicurazione sia in ambito civile che penale. Abbiamo che quasi il 30, su 990 casi, quindi casi di richiesta di risarcimento danni o di querela contro il personale sanitario delle radiologie, abbiamo che quasi il 30% è legato a una mancata diagnosi di lesioni dell'apparato osteoarticolare, soprattutto per pazienti che arrivano in DEA o in pronto soccorso. Circa il 17% è legato invece a una mancata diagnosi in seguito a mammografia di patologia neoplastica e un ulteriore 7,5% per la mancata diagnosi di affezioni polmonari di tipo maligno di solito, quindi anche questo è tipo neoplastico, in seguito a un Rx dorace. C'è da dire però, sempre dai dati SIRME, che nel oltre il 90% dei casi gli errori in ambito radiologico non vanno di fatto ad influenzare la prognosi o la gestione del paziente. Il 6,9% degli errori possono avere un certo effetto negativo per la salute del paziente, ma in realtà solo lo 0,3% degli errori è significativo sulla prognosi o sulla gestione del paziente. E adesso arriviamo al famoso caso di Bologna, di cui sicuramente già ne sapete, ma vale la pena forse ricordarlo un attimo. Tutto parte dal fatto che abbiamo due donne con lo stesso cognome. Il 13 agosto del 2007 Daniela, di anni 54, esegue una UroTAC per una sospetta neoplasia renale. L'intero studio viene inviato al server del Pax. C'è da dire che Daniela nei giorni precedenti era andata in pronto soccorso per una colica addominale e erano state fatte delle ecografie che avevano messo qualche dubbio. Il 14 agosto Teresa, di anni 86, esegue anche lei una UroTAC per una neoplasia del segmento prevescicale dell'uretere con idronefrosi di terzo e quarto grado. Il TSRM era lo stesso, i medici radiologi erano diversi. Per errore, le immagini di Teresa vengono attribuite a Daniela, primo momento critico. Il nome compariva ancora in elenco nella work list della console, nella riga vicino a quella di Teresa. L'errore viene corretto dal tecnico. I dati di Daniela vengono corretti con quelli di Teresa e tutto viene inviato al Pax. Il tecnico interviene sui due server per togliere le immagini sbagliate di Teresa inviate come Daniela. Però, cosa succede? Che dal server del Pax, che era visibile all'epoca solo in radiologia, sono invece cancellate le quasi 1600 immagini dell'esame di Daniela e rimangono solo quelle di Teresa ma ancora scorrettamente attribuite a Daniela, secondo momento critico. Queste vengono masterizzate col CD. Altra questione critica. Il tecnico non informa il medico della correzione e quindi i medici vanno a refertare, due medici diversi, uno l'attac di Teresa e l'altro l'attac di Daniela, ma danno praticamente lo stesso referto, la stessa risposta. Vistosa, idro, urettero, nefrosi sinistra, pestenosi, neoplastica, urettero e distale, aggettante alla vescica. C'è da dire poi che il medico che ha refertato l'attac di Daniela non aveva a portata di mano le precedenti ecografie, che parlavano solo di una lieve dilattazione dell'uretere sinistro e angiolipoma renale sinistro. Non solo, a questo punto Daniela fa il terzo esame, la cisto-ureteroscopia, che risulta negativa. A questo punto l'urologo si accorge che c'è una discordanza. Va allora in radiologia per discutere con il radiologo, però trova un terzo radiologo, altro momento critico, che vede questa discordanza, ma tuttavia l'urologo decide comunque di procedere con l'intervento e non fa ulteriori accertamenti. L'intervento previsto era una nefro-ureterectomia. E arriviamo all'intervento, che viene deciso per via la paroscopica. Come ha già detto chi mi ha preceduto, qui c'è un ulteriore momento critico. Oggi forse non sarebbe più possibile con le checklist preoperatorie, dove è previsto tra l'altro il cosiddetto double check. Cioè si va a vedere, e questo lo fa il chirurgo, di solito dovrebbe essere due chirurghi, se c'è una concordanza anagrafica, ma anche di lesione, tra le immagini radiologiche fatte prima di un intervento chirurgico e l'intervento che uno decide di eseguire. Di fatto, quando si accorge, ma ormai era già iniziato l'intervento, che effettivamente il referto era negativo e va a cercare le immagini sul web, vede finalmente la discordanza. Ormai però l'intervento era avanzato, decide quindi di fare la nefrectomia, informa la paziente dell'errore a risveglio, purtroppo il giorno dopo la paziente muore per tromboembolia polmonare. Cosa è successo? Nel sistema PAX c'è questo doppio server, uno è un archivio di primo livello e l'altro la memoria legale. Il web server contiene circa sei mesi di attività e serve per inviare le immagini e i reparti con immagini e referti duplicati da PAX ed IS. Le immagini sono inviate al server del PAX di primo livello e da queste duplicate sull'archivio legale e sul server web. L'allineamento automatico era incompleto. La cancellazione doveva essere eseguita due volte, una nel server e l'altra nel server PAX e l'altra nel server web. Inoltre il medico che va a refertare lo fa dopo quattro giorni, quindi non si ricorda che le immagini viste al momento dell'esecuzione erano diverse da quelle che poi va a refertare. C'era inoltre un'incongruenza con i dati clinici e gli esami precedenti, le ecografie, ma questa non è stata rilevata perché non vi era ancora una prassi consolidata per l'insufficienza di risorse umane. Ricordiamoci che eravamo sotto ferragosto, molte persone erano in ferie. Infine, una scarsa interazione tra il radiologo e il clinico. Questi invece sono due esempi che vengono da un'altra casistica. Questa è una casistica autoptica dell'Istituto di Medicina Legale di Pisa nel periodo 1995-2005. Due esempi di come non deve essere utilizzata la teleradiologia. Primo caso. Uomo di 78 anni coinvolto in un incidente stradale per un tamponamento. Va in pronto soccorso, la diagnosi di trauma cranico non commotivo e colpo di frusta cervicale. L'esame neurologico è negativo. Si decide, visto che era pieno della notte, di metterlo in una stanteria, tenendo conto anche che era una persona anziana. Nel protocollo dell'ospedale era previsto fare l'RX dell'arachide cervicale e viene fatto. Però non viene attivato il sistema informatizzato di teleradiologia disponibile, in quanto non c'era un radiologo in servizio. Dopo circa otto ore, il paziente viene rinvenuto cadavere dagli infermieri. Al mattino dopo viene finalmente refertata l'immagine radiografica dell'arachide cervicale e dal radiogramma si evidenza la frattura del dente dell'epistrofeo, con frattura delle apofesi spinose di C1 e C2 e di parziale dislocazione atlassiale. Viene quindi avviata un'indagine giudiziaria con la richiesta di eseguire esame autottico. L'autopsia evidenzia infiltrazione emorragica dei tessuti molli del tratto cervicale superiore, le fratture cervicali multiple, unitamente a come si era visto poi con la TAC, midollo fatta post-mortem, il midollo spinale e redelmatoso e si fa l'esame istologico che evidenzia appunto l'infiltrazione emorragica. La causa di morte? Insufficienza respiratoria acuta in soggetto con plurime lesioni cervicali. Andando a vedere ancora più in dettaglio, la gravità di queste lesioni a fronte di un trauma tuttavia che era modesto era legato al fatto che vi era un'importante presistenza. Il paziente era affetto da un'iperostosi scheletrica idiopatica diffusa, che è una patologia dismetabolica molto simile alla spondilite anchilosante. In questi casi è possibile una produzione di fratture anche per traumi modesti, come può essere quello del colpo di frusta, dove il meccanismo lesivo è la brusca flesso estensione del collo. La diagnosi è difficile sia per l'entità appunto modesta del trauma, sia per l'assenza di segni neurologici acuti. In questo caso, di fatto, vi è stata comunque una mancata attivazione della teleradiologia, peraltro che era possibile fare, e questa è da imputare al medico richiedente. Secondo caso, uomo di 32 anni, coinvolto in un incidente stradale ad alta energia. Anche in questo caso il paziente va in pronto soccorso, viene posto a diagnosi di trauma toracico chiuso. Esami ematici erano praticamente normali, c'era solo un lieve incremento della transaminasi. Il paziente lamenta un modesto dolore toracico. Esame obiettivo completo e negativo. esegue un erix torace, che non viene repertato subito, nonostante anche in questo caso era possibile con la teleradiologia. Viene comunque disposto il ricovero per osservazione. Dopo sei ore il paziente ha un'improvvisa grave dispnea con perdita di coscienza. Viene rianimato ma muore. Viene finalmente anche in questo caso eseguita la rifiartazione del radiogramma del torace, che dimostra uno slargamento del mediastino e una alterazione del contorno aortico. Si trattava ovviamente di quella che è la rottura aortica in due tempi. Viene avviata anche in questo caso l'inchiesta giudiziaria. Cosa è quindi l'esame autottico? Dall'autopsia si evidenzia un emotorace massivo, la rottura dell'ismo della aorta e l'infiltrazione amatica dei tessuti periabentiziali. E' abbastanza tipica questa rottura della aorta, io ne ho viste tante personalmente, soprattutto nelle persone giovani, dove il tessuto scheletrico è molto elastico e quindi assorbe meno quella che è la forza attuto della decelerazione brusca. E' abbastanza tipico che questa rottura avvenga in due tempi o tardivamente, proprio perché spesso viene tamponata in un primo tempo la rottura stessa dal collabimento della ventizia. Cosa possiamo dire? Che ci sono stati due casi sicuramente di insuccesso delle prestazioni assistenziali, che l'ipotesi di reato in entrambi i casi era di omicidio colposo. Di fatto però, questo è importante dirlo, alla fine il rapporto causale tra l'ipotesi delittuosa e la morte è stato eliminato, per un ragionamento molto semplice. Se anche la diagnosi fosse stata fatta tempestivamente, in entrambi i casi era molto improbabile che l'esito sarebbe stato diverso. Ancora dei dati italiani, vi porto uno studio eseguito dall'ospedale di Cesena nel periodo che va da settembre 2005 al maggio 2006. Parlano su circa 82.000 e oltre prestazioni di 525 eventi avversi, lo 0,6%. Ho risaltato in giallo quelle che poi saranno le cose che possiamo confrontare con l'ospedale di Cremona, lo scambio di pazienti, lo scambio di lato, oppure la mancato e errata archiviazione. Guardate anche per Cesena quanti sono stati i casi per quest'ultimo aspetto. 295 casi, quindi quasi la metà di tutti gli eventi e lo 0,35 del totale delle prestazioni. Cominciamo adesso a vedere cosa succede all'ospedale di Cremona. Come vi ho detto prima, esiste un gruppo di coordinamento della gestione del rischio clinico, che in questo caso è il risk manager coordinato dal medico legale e che collaborano con il medico legale tutta una serie di altre strutture, compresi i sanitari in area critica, internistica e chirurgica, ma non solo persone di ambito sanitario. I compiti di questo gruppo sono quello di rilevare gli eventi in sentinella, gli eventi avversi o i quasi-eventi, soprattutto i quasi-eventi, relazionare quindi una sorta di mappa dei rischi, sia per tipologie di rischio sia per area di rischio all'interno di un ospedale, fare quindi un sistema di monitoraggio e di controllo di questi rischi, dare informazione e formazione a tutti gli operatori e infine, quando è possibile, cercare di fare un piano di sicurezza. Accanto a questo gruppo, la novità assoluta in Lombardia è che c'è anche un comitato valutazione sinistri. Nel nostro caso è responsabile dell'ufficio legale che lo coordina e quali sono le funzioni di questo comitato. Tenete conto che dovrebbe essere presente all'interno del gruppo il direttore amministrativo, il direttore sanitario, il risk manager, gli affari generali, ma anche delle figure esterne, e cioè il broker, il liquidatore della compagnia di assicurazioni e il medico legale della compagnia di assicurazioni. Per fare cosa? Per monitorare i sinistri, ma per monitorare anche le riserve economiche. Le riserve economiche vuol dire l'accantonamento di soldi che la compagnia di assicurazioni deve fare per ogni sinistro. Pensate che poi l'ospedale paga il premio, parliamo magari di 3 milioni di premio all'anno, più o meno, per ogni azienda ospedaliera, paga il premio anche in funzione della quantificazione delle riserve. Le strategie anche da condividere in questo gruppo per i sinistri in franchigia, cioè quelli che praticamente l'ospedale si deve pagare senza l'assicurazione, ma io direi uno degli aspetti più importanti per i casi più gravi è quello di poter dare la propria voce alla compagnia di assicurazione per quello che riguarda gli avvocati e i consulenti medico-legali o altri specialisti, quando parliamo soprattutto di casi di sinistri mortali dove c'è spesso anche un'indagine di tipo penale. Sempre presso l'ospedale di Cremona, a proposito di race manager, abbiamo due sorte di incident reporting. Una è la scheda di incident reporting che viene utilizzata un po' per tutti gli eventi, poi abbiamo una scheda, se vogliamo, un pochino più specifica, tipica dell'attuale radiologia. Nell'incident reporting vengono riportate le cadute dei pazienti, dal letto, dalla carrozzina, gli urti, gli schiacciamenti, gli errori di terapia, le eventuali aggressioni. Nell'incident reporting della radiologia vengono fatte le segnalazioni dagli tecnici al superutente del PACS per tutte quelle volte in cui l'operatore si accorge di una criticità ma non la può risolvere. Oppure nel caso di errore di attribuzione delle immagini al paziente, il tecnico può subito modificare questo, ma il superutente è in grado di controllare le modifiche. E quindi in qualche modo tutto questo è possibile evidenziarlo e segnalarlo. Nell'incident reporting di solito della radiologia ci sono gli errori di accettazione, gli errori di anagrafica, gli errori di identificazione paziente o di lato, gli errori di archivazione o d'altro. Altro vuol dire gli artefatti, le immagini errate per mossa, i test di prova, eccetera. E questo è il dato. Dal 2008 al 2011, tenendo conto che nel 2010-2011 abbiamo fatto riferimento ai primi nove mesi, rapportando il numero di errori che sono stati in qualche modo evidenziati e segnalati alle prestazioni eseguite nel medesimo periodo per mille, vedete che c'è una lieve discesa man mano che si va verso dal 2008 al 2011. Se poi andiamo a vedere questi stessi errori distinti per tipologia in rapporto al numero di prestazioni, vediamo come negli ultimi anni l'errore di lato del paziente è rimasto costante, mentre gli altri errori più o meno stanno diminuendo, ad eccezione degli errori di archiviazione. E poi, altro dato, il numero di attribuzioni di immagini errate rispetto al paziente e rispetto al numero delle prestazioni per cento. Qui facciamo riferimento agli ultimi tre anni, sempre tenendo conto del periodo del 2010-2011. Vedete che siamo abbastanza in linea, abbiamo uno 0,42% nel 2009, c'è stato un innalzamento nel 2010 e poi siamo ritornati nel 2011 allo 0,41%. Abbiamo cercato poi di confrontare i dati di Cremona con quelli di Cesena, di cui vi dicevo prima, tenendo conto che erano confrontabili sostanzialmente solo gli errori di identificazione del paziente, gli errori di lato e quelli di archiviazione. E vedete come gli errori di lato a Cremona siano effettivamente rilevanti. Cosa si può dire da questo campione? Che sono in calo gli errori di accettazione, che sono in calo gli errori di identificazione del paziente, infatti ormai abbiamo una maggiore integrazione informatica con i vari punti di accesso del pronto soccorso, ma non le attribuzioni errate delle immagini. Gli errori di lato sono costanti, sono alternanti gli errori di archiviazione. Come ho già detto, quelli più gravi si sono verificati proprio nel 2011. Da ultimo vi mostro i dati dei sinistri, quelli che sono stati dal 2000 al 2010, quindi negli ultimi dieci anni, della radiologia dell'azienda rispetto ai sinistri di tutta l'azienda ospedaliera. Rappresentano sostanzialmente il 3,5% di tutti i sinistri. Se poi vado a confrontare, da un punto di vista economico, quello che è stato l'importo liquidato dalla compagnia di assicurazione, vedete che per la radiologia dell'azienda di Cremona è stato speso il 7,5% rispetto a oltre 5 milioni di euro totali. L'importo invece riservato, su circa 8 milioni e 430 mila euro, è stato accantonato in questo caso il 4%. Quelli che sono stati gli sinistri, alla fine in questi dieci anni, in tutto sono stati 20, di questi 14 errori diagnostici, due errori terapeutici, due cadute del paziente, un caso di paziente che si è fatto male in seguito a un urto, e un altro per lesione iatrogena da agopuntura. Da ultimo, se noi andiamo a confrontare allora la piramide Enrich, in ambito di risk management, quando su un evento grave abbiamo oltre 300 mila quasi incidenti, e confrontiamo nel periodo più o meno che abbiamo visto la radiologia dell'azienda, siamo assolutamente in linea. Vi ringrazio. Grazie. Applausi. Grazie. Applausi. Grazie. 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 Grazie.